Daniele Tornatore, qual è l'obiettivo in queste ultime tre gare? Quello di raggiungere i play-off, però la grotta sta andando sempre più forte. L'obiettivo è quello di pensare partita per partita. Ora abbiamo due scontri diretti, Paolisi e Baiano. Cerchiamo di portare questi sei punti a casa. Quindi ci credete ancora? Crederci ci fa bene, anche per lo spirito del gruppo che non deve mai mancare. Ti ripeto, noi pensiamo partita per partita, proprio per raggiungere questo obiettivo. Poi quello che viene ci prendiamo. Il Serino ha i punti che si merita o meritava qualcosa in più? Chi ha seguito il nostro Serino può dire che ci meritavamo qualcosa in più. Vedi Grotta, che se avessimo chiuso quella partita nei minuti di recupero, avrebbe fatto quel gol. A quest'ora stiamo parlando di un altro campionato. Come si affrontano queste prossime due partite? Affrontate con la giusta mentalità, anche perché c'è stata questa sosta che a volte fa bene, a volte fa male. C'è il calo di concentrazione. Vanno affrontate con una giusta concentrazione. Grazie.